Quando si parla di amare se stessi spesso si preintende la questione pensando che si alluda ad una qualsiasi forma di egoismo. Amare e pensare a se stessi viene visto come un vieco vivere, come essere incuranti del prossimo. In realtà l'amare se stessi è l'opposto dell'essere egoisti, essere nell'ego e sentirsi vittime, incapaci, inadeguati, deboli e lasciare che a guidarti sono i sentimenti di rancore, di rabbia e di vendetta. E' questo essere egoisti, vivere nell'io sono invece e far sì che sia il tuo super conscio, quindi l'amore a guidarti. Significa avere la consapevolezza di ciò che ti muove dal più profondo del tuo socconscio, questo amore o paura. Se vuoi imparare a amare te stesso attraverso l'ibnosi seguimi sul mio canale youtube e se vuoi prenotare una seduta clicca sul link che trovi sul mio canale. A presto e al prossimo video.